Siamo qui con il professor Federico Ferrini, astrofisico e direttore dell'Osservatorio gravitazionale europeo. L'osservatorio che insieme a un'altra sede negli Stati Uniti ha avuto, ha rilevato le onde gravitazionali che sono una scoperta scientifica che sta sconvolgendo il mondo della scienza. Bene professore ci racconti la scoperta. Dunque questa scoperta ha una lunga storia perché tutto è cominciato cento anni fa. Albert Einstein dopo aver scritto l'equazione dell'attività generale ha cercato delle soluzioni perché ovviamente come ogni fisico vuole trovare le soluzioni alle equazioni che descrivono tanti fenomeni e cercando una soluzione approssimata ha trovato che era possibile vedere la formazione di onde analoga a quelle che vengono create quando si prende per esempio un sasso e si butta dentro uno stagno che si propagano dalla zona centrale dove ha avuto l'impatto tra il sasso e lo stagno e che viaggiano e si smorzano. Una soluzione analoga era venuta dalla sua analisi delle equazioni in corrispondenza di quelli che potevano essere dei fenomeni astrofisici catastrofici dove ci fosse una grande concentrazione di massa o di energia. Di conseguenza quando avveniva una catastrofe astronomica legata a condizioni molto particolari poi magari ve le descrivo leggermente, rapidamente, potevano essere emessa sotto forma di energia una radiazione sotto forma di onde. Però subito Einstein si accorse che questa radiazione era estremamente debole ed estremamente rara da avvenire nell'universo. I fisici hanno discusso un po' fino agli anni sessanta se questo fosse un tema teorico interessante o meno fino a quando un fisico americano negli anni sessanta ha cominciato a dire beh voglio provare a costruire un esperimento che possa rivelare queste onde gravitazionali e subito immediatamente si è vista la difficoltà fondamentale. Gli eventi che portavano alla generazione di fenomeni con così tanta concentrazione di massa o di energia, i due sono equivalenti. E uguale mc quadro è un'equazione che tutti conoscono, l'equivalenza tra energia e massa. Quindi massa e energia sono la stessa cosa per la relatività. Intanto la rarità degli eventi perché legati a condizioni patologiche dell'astrofisica, delle masse grandi varie volte il sole concentrate su sfere di diametro qualche centinaia di chilometri. Il sole ha un diametro di qualche milione di chilometri, quindi immaginatevi che concentrazione deve avere la materia per raggiungere questi stati patologici che si chiamano stelle di neutroni o buchi neri. E l'altro aspetto è che essendo fenomeni rari ed avvenendo a distanze molto grandi da noi, quindi a tempi molto lontani da noi, il segnale diminuisce man mano che si propaga nell'universo ed arriva a noi molto debole. I primi esperimenti basati sulla vibrazione di alcune barre messe in sospese in qualche maniera libere da condizionamenti fisici, queste vibrazioni non venivano rilevate. Fino a quando negli anni Ottanta alcuni fisici hanno pensato di costruire degli interferometri, cioè dei sistemi che misurassero gli spostamenti di specchi tramite la radiazione luminosa che arrivava su questi specchi che poi si ricomponeva e dalla variazione della luce corrispondente al tragitto che questa luce faceva nelle due direzioni perpendicolari, poi alla fine uno poteva vedere se questi specchi si erano mossi o meno. Uno strumento di una grandissima sensibilità era necessario e quindi dagli anni Ottanta fino al 2016 i fisici di tutto il mondo hanno lavorato per 35 anni per riuscire ad arrivare ad avere uno strumento di sensibilità tale da poter rivelare queste onde gravitazionali. L'evento che ci ha sorpreso e ci ha eccitato è la coalescenza di due buchi neri. Due buchi neri sono degli oggetti, come abbiamo ricostruito dall'analisi dei dati, dell'ordine di 30 volte la massa del Sole concentrato su un diametro di 200-300 km. Questi due oggetti ruotavano uno intorno all'altro un miliardo e 400 milioni di anni fa, quindi un miliardo e 400 milioni di anni luce da noi, a una velocità dell'ordine della metà della velocità della luce. I due nel tempo estremamente breve di pochi decimi di secondo si sono uniti creando una struttura dell'ordine di 60 volte la massa del Sole, però rispetto ai due progenitori la struttura finale aveva una massa di tre masse solari inferiore. Queste tre masse solari, grazie a quello che vi dicevo prima, l'equivalenza tra energia e massa, sono state emesse sotto forma di radiazione di onde gravitazionali che poi hanno colpito i nostri strumenti. Giusto per darvi un'idea della quantità di energia in ballo, l'energia emessa sotto forma di radiazione era confrontabile con 50 volte tutta l'energia luminosa emessa dall'universo. Un fenomeno di una straordinarietà incredibile che sinceramente ci ha sorpreso moltissimo e ha fatto sì che da settembre fino a febbraio circa mille fisici in tutto il mondo hanno lavorato allacremente per cercare di capire se questo evento era effettivamente un passaggio di un'onda gravitazionale o un qualche cosa che era determinato da interferenza degli strumenti, dell'elettronica, un qualche segnale spurio che qualcuno giocherellone avesse buttato dentro l'interferometro perché il segnale era così bello che sembrava ricopiato dai libri di fisica. Quante persone, professore, hanno lavorato a questa scoperta? Tanta gente, circa 1300-1400 persone in giro per il mondo. La ricerca della fisica delle onde gravitazionali ha scienziati, ingegneri e tecnici in quattro continenti nell'America, Europa, nell'Asia, in Giappone e in Australia anche. In totale appunto siamo una comunità dell'ordine 1500 persone. Di questi 1200 fanno parte della collaborazione LIGO-VIRGO perché noi siamo dal 2014 praticamente un'unica collaborazione globale. Gli americani hanno costruito questi due grandi strumenti negli Stati Uniti e insieme a loro collaborano tedeschi, inglesi, giapponesi, ungheresi, spagnoli. Noi a VIRGO abbiamo una collaborazione che coinvolge Francia-Italia, Olanda, Polonia, Ungheria e recentemente anche la Spagna. In Giappone c'è un interferometro in costruzione in cui sono coinvolti giapponesi e coreani e degli astraliani collaborano sia con i giapponesi che con i LIGO americani. Ma LIGO e VIRGO sono un'unica collaborazione mondiale. Quando i giapponesi avranno costruito il loro interferometro diventeremo una collaborazione con un altro partner, e il interferometro giapponese. Quindi avremo quattro strumenti che lavorano insieme, coordinati come se fossero un unico soggetto scientifico. Questo è un qualche cosa di straordinario, devo dire, perché la mia esperienza di scienziato non ho mai visto uno spirito di collaborazione che, partendo da competizione come era all'inizio degli anni 2000, si è trasformata in reale, completa collaborazione a metà degli anni 2010. E' veramente un esempio per me emozionante anche dal punto di vista della sociologia della scienza. Cosa spinge uno scienziato che ragiona su dati certi e misurabili a affrontare l'incertezza per gran parte della sua carriera? Diciamo, la nostra comunità è costituita da fisici e da ingegneri e da tecnici. I fisici sono quelli che hanno di solito un atteggiamento visionario, vogliono andare al di là delle cose, vogliono andare a scoprire le cose che ancora non sono state conosciute. E questa dell'onda gravitazionale è una sfida micidiale, insieme al bosone di Higgs, che ha caratterizzato anche lui la fisica degli ultimi 30 anni. Sono due soggetti che rimanevano lì, non verificati, non visti, perché la fisica è una scienza sperimentale, io sono un teorico, ma è chiaro che la fisica è una scienza sperimentale, è così che è nata con Galilei Galilei, a pochi chilometri da qui. E quindi il fisico vuole vedere, vuole rivelare, vuole capire, vuole avere idea se qualche cosa che è stato previsto, che è stato considerato importante, effettivamente ci sia o no, quindi deve andare dietro l'angolo. Noi vogliamo, non siamo dei guardoni, però vogliamo vedere quello che apparentemente non si vede. Più è difficile e più un fisico ci butta energia. Chiaro che questa è un'impresa disperata. Disperata perché si trattava di misurare un decimillesimo del raggio del protone. Ora, un figlio che si mette su questa strada deve essere un incosciente. Un incosciente che ama le sfide impossibili. Ma devo dire che io ho apprezzato molto il fatto che ci siano stati degli enti finanziatori che ci hanno investito. Perché questa è la cosa sorprendente, che noi abbiamo avuto il coraggio di buttare dei soldi su imprese in cui il presidente che dell'ente finanziatore ha deciso in quegli anni di investire in questo esperimento era certo che lui non avrebbe potuto raccogliere la gloria di aver finanziato. Perché era sicuro che sarebbero stati 20-30 anni prima che questa scoperta fosse fatta. E quindi è stato anche, devo dire, dal punto di vista dei manager e delle agenzie, è stato un coraggio notevole. Il singolo fisico si è lanciato con le possibilità di andare contro un muro e farsi del male. Ovviamente, però, è la sua carriera individuale. Ma i campi delle agenzie che hanno preso questo coraggio, devo dire, potevano fare dei danni alla agenzia e non soltanto a se stessi individualmente. Per cui, secondo me, anche loro vanno ricordati come delle persone che hanno avuto il coraggio di impegnarsi in qualche cosa che non aveva nessuna certezza. Quindi degli incoscienti sognatori. Sì, sì, sì. Il fisico nasce forse perché, appunto, un poverino come studente deve studiare tanto, per cui deve soffrire. E consiglia quella carriera di fisico a chiunque non sia pronto a soffrire fortemente, a passare anche delle notate a studiare. E quindi non soffrire di quella adolescenza che, effettivamente, all'università è bella. È bella a godere, ecco, diciamo. Io l'ho fatto e sono ben contento di averlo fatto. Ho avuto la fortuna di avere una nazione di gente che paga le tasse e mi ha messo nella condizione di poter fare un mestiere che io adoro. Però non mi dimentico mai di questa condizione e nemmeno i miei colleghi se la dimenticano. E cercano di essere comunque utili alla società a lungo termine. Se volete poi ne parliamo un attimino. Ma, diciamo, Dante Alighieri è nella testa di tutti noi. Infatti, non foste a vivere come brutti, ma a perseguirvi tu del canoscenza. È fondamentale per il fisico, perché la canoscenza è lo scopo finale del lavoro dei fisici. E in diverse scale, naturalmente, ci sono delle sfide come questa delle onde gravitazionali che, come dire, ti coinvolge per una vita. Io ci sono arrivato una decina d'anni fa, quindi sono abbastanza nuovo dell'ambiente, tutto sommato. Però ci sono dei colleghi che da 40 anni lavorano in questo settore. E la virtù è l'altro aspetto. La virtù vuol dire cercare di ottenere e raggiungere risultati sviluppando tecnologie che non ci sono e quando si può, anche se questo non è nella mentalità del fisico, riflettere se queste tecnologie possono essere portate di nuovo alla società civile. Per fortuna nostra, noi non siamo solo fisici, i fisici sono una minoranza, ma abbiamo tanti ingegneri e tecnici. Perché? Perché costruire delle imprese da punto di vista tecnologico molto avanzate ci vogliono ingegneri. E noi abbiamo bravissimi ingegneri con noi, che sono anche la maggioranza. All'European Gravitation Observatory la maggioranza del personale, di 50 persone, sono ingegneri e tecnici. Di fisici ce n'è solo uno, il direttore. Ma perché è una scelta meditata? Perché ci vuole del personale che sia capace di realizzare, di concepire le soluzioni tecnologiche che portano poi alla scoperta scientifica. Quindi i nostri ingegneri e tecnici, a quali va moltissimo del merito di tutta questa operazione, prendono parte e con la loro mentalità solida e concreta ci aiutano a realizzare quello che poi è la nostra aspirazione di ricerca. Mi viene in mente che quindi creatività, pensiero laterale, appunto la sfida, sono tutte caratteristiche che hanno un ruolo determinante in questa scoperta. Assolutamente sì. Assolutamente sì perché la sfida era impressionante, come dicevo prima dall'inizio, proprio per intrinsecamente la misura che doveva essere raggiunta. e le scelte ideate, prima sulla carta, facendo i conti con l'equazione della fisica e poi con la tecnologia, hanno richiesto un cammino che è andato ben lontano da quello che era il cammino standard della realizzazione scientifica e tecnologica al tempo in cui questi strumenti sono stati concepiti. siamo dovuti andare fuori e vedere le cose proprio con una prospettiva diversa. Il pensiero laterale, il pensiero divergente è stato, come dire, la fortuna di questo esperimento. e grazie appunto alle, magari litigate che i fisici sono fatti tra di loro, le discussioni violente, accanite di trovare le soluzioni, ci ha portato a camminare per strade non conosciute e di nuovo lo stimolo di andare per strade non conosciute è una molla fortissima. proprio dal punto di vista psicologico ha sostenuto questo sforzo che è durato anni e anni e anni al punto, secondo me, di far perdere la cognizione del tempo che stava passando. per cui gli anni sono scorsi grazie a questo desiderio di costruire, di fare, di realizzare in maniera tale che i fisici coinvolti si sono invecchiati senza rendersene conto per cui continuano a mantenere, curiosamente, una patologia probabilmente da studiare ma la fisica mentalità dei giovani, cioè, si sente sempre trentenne, non c'è niente da fare anche se è superato abbondante, addoppiato abbondantemente ma c'è sempre uno stimolo ad andare più in là in maniera originale cioè, non è che il fisico volesse il primo della classe, però ce l'ha dentro il nato è come se volesse sempre arrivare primo a fare una scoperta, primo sulla cima del monte, primo a capire una cosa la velocità del ragionamento e della fantasia sono un motivo che rende alacre ed effettivo il lavoro del fisico non c'è dubbio, e per fortuna abbiamo gli ingegneri che poi ci portano sulla terra e costruiscono veramente le cose come si deve e i tecnici che sanno fare dei disegni e trovano delle soluzioni brillantissime che stupiscono anche noi, spesso, perché le soluzioni che ci trovano ci lasciano molto soddisfatti e molto contenti perché siamo tranquilli e possiamo andare avanti Com'è possibile che un progetto di ricerca diventi un'azienda? Perché lui c'è su un'azienda Si vorrebbe essere un'azienda, lei ci dice che siamo un'azienda e ci fa un complimento anche più grande di quello che ci meritiamo ma certo quando si incominciano a gestire 300 e passa persone distribuite su vari laboratori in Europa con una concentrazione maggiore ovviamente qui sul sito con tutte le problematiche del caso perché ci sono questioni sindacali, questioni dei rapporti gerarchici questioni che vanno dall'orario del lavoro ai turni, naturalmente all'avanzamento delle carriere ai finanziamenti perché i finanziamenti diciamo ci sono arrivati e ci arrivano ma ci dobbiamo guadagnare perché noi siamo in concorrenza con altri esperimenti questa è una competizione seria, dura, faticosa che ci obbliga anche a costruire dei bilanci che sono complicati che richiedono anche dei tagli dolorosi a volte per certe attività con la voglia di avere molte borse per formare i giovani, con una complessità aziendale in generale noi non siamo preparati a queste complessità e quindi come dire, dobbiamo risolvere questa problematica con l'atteggiamento del fisico che è buon a tutto mi permettete un paragone non molto rispettoso, il fisico è un pochino come il maiale, serve a tutto e deve fare lo scienziato, capire dove vuole arrivare con la scienza, cercarsi i fondi, far tornare i conti e gestire le parti economiche e amministrative di cui via di principio è un po' un ignorante servendosi realmente di competenze che vengono dall'esterno e che ci aiutano a tutto questo però deve avere l'elasticità di adattarsi da sei anni e mezzo io faccio l'amministrativo, il cacciatore di testi, il cacciatore di fondi, il cacciatore di soldi e l'uomo che cerca di dialogare costruttivamente con i sindacati e la fisica ogni tanto il sabato sera me la guarda ma siamo al servizio di un'impresa che speriamo arrivi a successo e devo dire che sta andando bene che l'obiettivo è raggiunto direi eh no, l'obiettivo non si raggiunge mai cara signora, no, no, l'obiettivo è sempre davanti a noi, lontano e abbiamo fatto la prima, abbiamo dimostrato con la prima generazione cioè fino al 2011 che i concetti alla base di questi strumenti erano corretti però la sensibilità non era sufficiente poi abbiamo fatto l'avanzamento di questi strumenti d'accordo con gli americani abbiamo fatto sì che gli americani partissero due anni prima di noi a fare l'avanzamento noi siamo partiti nel 2012 perché nel 2011 abbiamo preso dati mentre loro erano spenti proprio perché se per caso c'era qualche vento lo beccavamo e sarebbe stato un risultato comune laico-virgo poi noi ci siamo spenti mentre loro nel 2015 hanno cominciato a accendere gli interferometri noi saremo in condizione di accenderlo tra un paio di mesi e loro già accendendolo con questo avanzamento hanno beccato già il segnale che volevamo ma noi abbiamo fatto soltanto il primo tassello abbiamo visto le onde gravitazionali ci sono ora noi sappiamo abbiamo creato uno strumento di indagine dell'universo che prima non esisteva ora comincia la fisica vera ora da marzo dell'anno prossimo cominceremo a prendere dati tutti e tre insieme e l'obiettivo è di raccogliere molte osservazioni di emissioni di onde gravitazionali per capire questi fenomeni una sola bellissima straordinaria magnifico fuochi di artificio ma è l'inizio della storia non è la fine è l'inizio della nuova astronomia che speriamo porti conoscenze importanti su quella che è la struttura dell'universo sulla materia scura sui fenomeni più catastrofici dell'universo sulla possibilità di analizzare dei fenomeni che prima l'astronomia ottica che quella dei telescopi dei raggi x basata sulle onde elettromagnetiche non poteva vedere con le onde gravitazionali possiamo vedere una fenomenologia che prima era sconosciuta misteriosa è questo l'ambizione e ci vorranno anni per riuscire a raggiungere gli obiettivi che poi naturalmente saranno sorpassati da nuovi obiettivi che verranno nuovi ancora più eccitanti ancora più interessanti il gruppo come vive il successo di queste scoperte? è il gruppo diciamo la psicologia del fisico è diciamo una psicologia secondo me io non sono un esperto di psicologia però il poco che ho visto che ho colletto mi fa pensare dei comportamenti ciclici dove si passa dall'eccitazione alla depressione in forme non patologiche però in forme intense a volte devo dire la verità il fisico soffre di queste variazioni di umore e cambia il proprio umore rapidamente e repentinamente man mano che le problematiche sono affrontate si presentano non trovano soluzione trovano soluzione e via così quindi il fisico tipico si è eccitato moltissimo i nostri amici ingegneri sono più calmi meno male e quindi hanno un atteggiamento più costante i fisici sono eccitati moltissimo ovviamente cercando di coinvolgere anche gli altri è complicato il meccanismo di coinvolgere secondo me tutti cioè di dare a tutti il giusto peso di questa partecipazione a questa scoperta sensazionale perché è chiaro che noi prevediamo che il premio Nobel arrivi ai padri fondatori degli esperimenti e sono due o tre nomi che circolano però tutto sommato è un lavoro di squadra non ci sono soltanto loro che sono sicuramente quelli che hanno iniziato la storia ma tutti quelli che hanno contribuito vanno va loro riconosciuto il merito di aver partecipato cosa che come direttore ovviamente cerco di fare ho cercato di fare nelle giornate in cui comunicavamo eccetera riconoscendo a tutti il fisico in sé lui gioirebbe da solo però la comunità è grande e tutto ha il merito di andare avanti questo è un fatto psicologico magari un po' di cure psicologiche nel nostro ambiente non sarebbero sgradite ma vi ringrazio molto di averci invitato a partecipare al vostro convegno e a raccontarvi un pochino la nostra esperienza Giovanni che è nella sala ed io che per altri impegni purtroppo devo essere lontano visto che il programma prevede un pomeriggio di musica ecco vorrei sottolineare che come è stato detto da alcuni giornalisti noi ascoltiamo la musica dell'universo perché le frequenze delle onde gravitazionali sono un po' sulla banda acustica beh l'universo manda della musica l'armonia è quella che noi cerchiamo comunque nella fisica nella vita nell'esistenza anche il fisico si pone domande che non sono pertinenti alla sua professione qual è lo scopo di tutto questo? dov'è l'origine? dove stiamo andando? quali sono le regole del gioco? noi ci soffermiamo più sull'ultima parte, le regole del gioco però tutto il resto è presente comunque beh vi auguro successo, serenità e gioia nelle vostre carriere è detto da una persona che ha passato ormai 40 e passa anni a lavorare in qualche cosa che l'ha sempre divertito è stato un piacere parlare con voi, conoscervi e raccontarvi un minimo della nostra esperienza anche dal punto di vista psicologico buona giornata grazie 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 grazie